La squadra che abbiamo affrontato oggi è la squadra che ci ha sempre messo più in difficoltà di tutti. Anche a livello personale, ogni volta che l'ho affrontato, è sempre stata una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà e non abbiamo quasi mai vinto contro di loro. Quindi sono contento che oggi siamo riusciti ulteriormente a sbloccarci e poi per quanto riguarda me sto ancora mettendo minutaggio piano piano ma vengo da lungo infortunio, speriamo bene. Luca dietro si sa ormai anche a 11 fa la differenza, quindi figuriamoci qui a calciotto che magari incontra avversari che non si allenano tutti i giorni, Luca ha una grande sicurezza. Non abbiamo questo piccolo difetto che quando siamo sulla 0-0, sul punteggio in parità, giochiamo. Poi appena facciamo gol ci chiudiamo dietro e questi sono campi maledetti come lo Stella, appena ti chiudi la seconda o la terza azione prendi gol. Quindi dobbiamo essere maggiormente concentrati. Complimenti in bocca al lupo a Nico Borsi.